Ok, adesso vediamo se i grom, provi mai, a few weeks ago Dante Twin Brothers, da, ovo je Virgil, bukvalno Kao što sam rekao Jim je znao da rukuje odmah sa jematom Evi Che That does Freeze My In order to defeat his younger brother He could only do one thing with the crumbling flesh and feelings To separate man from devil with the strength of the Yamato And eventually The man became a true devil Vi je zapravo Virgil Ili kako si izgovarao već ime Wow Koi mind blow I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left but I'm approaching my limit In separating and regaining my human soul I've realized the gravity of the crime I've committed I've realized how important everything was Everything I've thrown away in my pursuit of power Is that why you went to find Dante? Yes Foolish I thought that maybe he could change my... Maybe fix Maybe right my wrong Tell me I'm not your mommy V You're a big boy And you need to see this through I'm not your mommy V I'm not your mommy V You're a big boy And you need to see this through I don't understand You're a big boy I don't understand You're a big boy I know You're a big boy Nudit I don't understand I don't understand I don't understand What a game I do not understand Now I play with Dante Cosa si chiede Yamato? Yamato! Uuh shit Ok, abbiamo ancora un оружio, è stato da me lo soffi Ok 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 E andiamo a customizzazione, da vediamo cosa mi mogli da uspere Evo ga E' stato questo E' da uscimo, ci sto da ga imam Non c'è più di se lo visto 18 anni... O streaming... 5 sei allauntedwa Ehm... Reduce rate Ok, to je to, krećemo Uzeli smo onu jednu stvarčicu za ovaj motor I unapredili smo još malo moj ability Idemo sad start Na misiju... 12, ja mislim da je 12, možda i 11 11, 12, ne znam tačno koja je, mislim da je 12 Mislim da je 12 misija Tako da ono, igramo misiju koja se zove Yamato Yamato Ne znam kako se znači izgovar, ali Yamato ili Yamato Ne, Yamato Ili samo Yamato Zavisno to od izgovara, to oni brate u kini imaju taj neki njihov izgovar U kini imaju taj neki njihov izgovar I sugestio da ću iz moja moja RIDA! 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 Mislim da ste pojavili još, evo ih Zanima me kakve je Kako je ovo drugoiet Non è più difficile. Udaria me, f***. è stato fantastico che posso andare con lui, credo che posso andare con lui, ma non può Sì, non è vero. Sì, sì! Sì 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 C'è questo F**k sì Ok, non so se c'è un foras che questo può riuscivi a te o qualcosa e ovviamente non Quanti Sì 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 Non c'è niente. Oggi ci sono stati da lì, sono stati da lì. Sì Sì Ok Sì Ok, sada mi pitate šta sam uradio sa onim, ne bi znao da vam odgovarim Ok, ubio sam ga Sì Ali kažem, za onu ne znam šta sam uradio Ovde li ima nešto? Nema, ok idemo ovde A, mislim da bi ovo četvrti, nisam siguran, mislim da je četvrti, u nije Koji mi je onda, aha, znači prošle je bilo četvrta, ok My bad Ok, trebalo bi tamo da se ide, tako da će mi da bacimo ovde pogled Čudod ovo ne može da se razvali Ok, mislim da može Idemo Eee, ne znam i de se nalazi, ali ovde neki fight sad, da? Oha, nešto brzo Interesantno Idemo Da li gaššam udari obrat Idemo Come on Furie, ok Idemo Idemo Oh shit Obio Niam Ovo da nekore Ovo je bilo Ovo je bilo Ovo je bilo Idemo Točno Ovo je bilo Idemo 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 Ok No, 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 no amai così non so l'ho mindedico che ho fatto l'anno è quella fara vediamo che ora devo unirare il cagherino no, è la cagheria sì, è la cagheria ok na pure l'espo lasciano e ora mi dice che Dante non può... ok, non può, veramente Sì, siamo unisciati Ok, ovdè c'è qualcosa in cima Sì, vediamo da li possiamo... Ovako? Sì, super Siamo in grado di magra Siamo in grado di magra 4. F*** Ok, non mi piace Oh shit, oh shit Sì! F***, è possibile che mi ha avuto? F***! Ho continuato a fare la spinta, quando è stato in воздуh, mi ha avuto un'esercizio. Questo è davvero un'esercizio. ok, ho deciso di prendere ok, ho ancora un blood qui è la terza e la resta perché è stata più alta e ora abbiamo ancora un' e ora abbiamo ancora un' quindi la resta è ancora un' e ora, Dante potrebbe essere potuto realmente, non lo so ok, abbiamo anche questo ma guarda che volta mi è stato fatto? ah, ho i moti ma guarda che mi mogli da sada andare? magari mi mogli da se vratimo, ma non so se non so, se non so, ok, è stato 13 ok, è stato stato fatto, ma che sono stato fatto è stato fatto che mi è stato fatto è stato fatto quando ho usato prima volta E' sad, ovun ovun vero vro'atno mora da se prođe kroz tu dole E' samo da vidim Da mi smo tu da ušli i onda smo išli Gledam nešto, ok Ajde, vratit ćemo se skroz na početak Čisto da vidimo ono gde je ona raskrasnica onih puteva Wtf, šta je bilo? Nemo povijem E' samo da vidimo ovde smo uzeli da ovde je bio tree tako da možemo kroz ovo Ode gore smo isto bili Fak prođi E' idemo Ovde, da, ovde je izlaz Ima još jedan put Koji je bio evo ga ovde gore Tu nismo bili Kako ne mogu da prođem, vratit? A sigurno sam da može da se popnem gore To jest da se prođe ovde Znavim da li ima nešto, onda ću znati zasigurno Ok, nema ništa Volimo Idemo Fak mislim da mogu da skočim odmah tu Da se ne zezam s ovim Ne Eeeer, nema ništa Ima boss battle!! Chalivim si, nije boss battle, ali je običan battle Sli ima boss battle, ali je običan battle Sì, non c'è ancora un po' di farlo. per questo per questo per questo io uso Devil Trigger perché io devo molto per questo e poi la parola o come dice o come dice e poi la parola oh vediamo che abbiamo qui vediamo qui ovun ovun come non ho 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 non 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 Znate, kao ono, pui pike ne važi Sada c'è i ovdè nešto Ouh, nema Divno чудo Ok, evo ga tu, znači Ova tečnos bi trebalo vuda, evo ga To je to I verujem da ponovo mogu da prođem kroz ovo i sada će nešto moći možda da uzmem I četvrtu smo otvarili Ili sad veridovatno Dante može da prođe Mislim, trebao bi da prođe Tako da Prolazi Dante I evo ga, otvara se do kraja Ja Fuck yeah Ali ne, prolazimo ovdè Idemo još da vidimo Zašto imam utisak da sam bio ovdè već Da, ovdè sam da njaka bio Da, ovdè sam da njaka bio Ok Ko bi rekao da je tu prolaz da sam mogu odatli da uradim i da sačuvam onda jednu Da, definitivno sam glup Oloki Ko či na kutiju čoveče Tote je Tako je, ako ne može na kutiju može tako Tote mi dobro Okej znači ovaj Dante ovak Dante ovak Uuu, čekaj Eeeh Eeeh Ovde nešto Ako nije odavde Al trebalo bi Da Može odavde Fuck Samo da im kako da se popnem gore Nemoše Mora da im kako, samo da Eeeh Eeeh Čekite, 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 ovde Kako nisam dupli skok mogu da uradim tu E, avmo Jes Eva ga, ovde smo već provalili E, avmo Ovde se nalazi negde Gde je sad bio Evo ga I odavde može se pogledati Secret mission unlocked, fuck yeah Deveta, okej, opet smo propustili neki Slay in air For more than, okej Aj, probat će evo Mada mislim da nećemo uspeti, ali ajde Propustili smo opet neki Ja mislim da smo imali Sedam Znači propustili smo osam Negde Neki secret mission Znači Zašto odmah se spustio na dole, a lajti Znači 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 Sašto mi spazano da dove, brate? Ja, zmatei kako bi mogo da odradim to. Sada ćete viti. Sašto sam opet udario da dove? Treba da ga lansiram u vazduh. I pohvala, ali 15 sekundi je stvarno mnogo. Znači ja ne znam kako bi to mogo. Ajde, uradit ćemo još ovo jednom i to je to. Lansirao ga i jesam u vazduh. Ali nisam 15 sekundi je ostao. Hvala da sam deseni klik. Ajde, vidite da ovo ima motor. Tako da bi možda da s motorom moglo nešto da uradim u vazduhu. Pao sam. Ok, ne znam kako da izvedemo ovo. Mislim previše sam glup, ali ajde, nema vese. Quit. Bare znamo gde se nalazi secret mission. Tako da, idemo na misiju sad. Mislim, na main misiju. Nastavljamo. Kao što smo rekli, znamo gde se nalazi. I mislim da bi posle mogao da ih naknovno ja radim. Nevezano za ovu igru, sve ovo. Znači ja bi možda mogo da uđem, pošto sam to sad, pošto sam otljučao. Nalazi. Nalazi se na mom, kao tako reći, nalogu. Na mom profilu. I onda bih mogao da radim. Svodim, ovdje mi sučilo da se nije nema ništa. Ok. Znamo, šta bi možda mogli da uzmemo. Znamo, imamo 32.000. Ja vrem da mogu neke ability da uzmem, tako je, ne moži. Neću ništa. Štekliću pare. Treba će mi vratno kako budem igrao sa nerom ponovo, ili sa vijem. A da sa vijem, mislim da više neću da igram. Pošto, kao što smo videli, on je počeo da se raspada. Da iskoristuje svoju snagu. Tako da, što se njega tiče, više nevam. Vjerovatno ne igram. Ok, malo mi secka. Ok, ovdje ne mogu ništa da radim. Nije ovdje. Ok, definitivno mogu samo da idem do moje kuće. Da uđem unutra. I ovo je moj Moje kuće, Dante je ova kuće? Fak je, evo ga. Sparda, Eve, Dante i Virgil. Ha, ovdje ti je. Hej, kako se tiče? Hej! Hej, Dante! Hvala, Dante! Demonički potrebno je aktivela na mnogo. Kiedy Virgil lovinčno je to za mnoho početka. Heh, Sempre mi chiamato, perché mi padre mi ha dato la ribellione? Ok, cosa ti chiamati? Ora ti chiamati sebe. Ora ti chiamati sebe sto posto. Ma chi mi chiamato? Hai perduto la mente? C'è un demon da si destruirà! Vissi a te. Vissi a te. Vissi a te. Oh, shit! Jemaga! è il demon che fu fuori e ora ora questo è il momento quando si pari Sonte è il uomo non si può essere morto non si può essere morto ma è è tutto il vostro ma non lo sposti eh è Eeeh, stai un moguće da ga è ponao E, idemo Virgil Politi Dante, mi riemo da se borim u ovom obliku Devil's Sword Dante Zanimlivo? Devil's Sword Dante Dante Kao što je bio Devil's Sword Sparda Da, a ovaj Dante Devil's Sword Dante A new legendary Devil's Sword, a blade born When Dante absorbed the rebellion in his body The weapon shards both his name and his will Okey Devil's, okey Press, dobro Active Devil's Children with DC, climate and conjure the sword Okey Amo da provamo Run while you can One day Do you want to talk? Do you know what you look like now? Oh shit, šta sam uradio A, fuck Hold to charge More Okey Okey, moguće da bi się zgubio, daj moj oblik Hold F, to i radim Hold F, to i radim Okey, definitivno mislim da je loše što sam izabro humana Da Definitivno loše što sam izabro humana Jer vidite koliko sam lako ubio brate bossa Opoň Opoňo pa to A ty Opoňi A ty Vđenđa Ok, non ho capito. Kabum! Sì, è vero che sarà la fine della missione. Ah, WTF? C'è l'ocitare adesso? Il stato di termino di missione. Si, il stato di termino di missione. Sì, è stato di termino di missione. Lo svegliere. Ora, se lo vedete, qui. Ok. E' qui? Si sta succedendo. Spera da adesso. Questa è riuscita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.